Nel Maxi Blitz che ha portato all'arresto di 19 persone con al centro le indagini sugli ultra delle curve milanesi è stato perquisito anche il rapper milanese 34enne Emi Schilla all'anagrafe Emiliano Rudolfo Giambelli, il cui nome compare negli atti come in rapporti, così come Fedez e altri cantanti, con Luca Lucci, capo ultra rossoneri della Curva Sud, ora in carcere. Da quanto si è saputo il rapper però non risulta indagato e si è trattato di una perquisizione presso terzi. Nell'ordinanza si legge anche della presenza di Emi Schilla a San Siro per il match Milan-Torino dello scorso 17 agosto assieme a Lucci che avrebbero preso posto negli Skybox. Lucci era là in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Sorveglianza per chi affidato in prova. Il rapper Emi Schilla è stato identificato assieme ad ultra rossoneri come Francesco Lucci, fratello di Luca, nel contesto di un'aggressione ad uno steward a San Siro per il match Milan-Roma dell'11 aprile scorso. Un episodio che scrivono i PM nella richiesta cautelare delinea la pericolosità del tifo organizzato del Milan e conferma che lo stadio di San Siro è fuori controllo. Lo steward, non è l'unico episodio di pestaggio ai danni di addetti alla sicurezza dello stadio, aveva cercato in vano di impedire che ai tornelli transitassero due individui muniti di un unico biglietto, venendo per tale ragione aggredito dagli ultra. Il rapper, come si legge in base alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe risultato presente assieme ad una quindicina di ultra. Nel corso delle perquisizioni al rapper sono stati sequestrati 40.000 euro in contanti, oltre a coltelli, tirapugni, mazze e uno storditore. Sempre nelle perquisizioni, nell'inchiesta di polizia e guardia di finanza, a carico degli arrestati e di altri indagati e non, sono stati sequestrati in totale oltre 100.000 euro, di cui 20.000 a Cristian Ferrario, finito ai domiciliari e presunto braccio destro di Andrea Beretta.